Musica Sopra a guerra, a casa Sardegna e a scapo Vila, contra la autonomia differenziata. Appintesi tutti i presidenti della regione, se lo sapevo posto in contatto con il suo segretario generale nostro. Siamo raffa veddando e con l'avvocatura si sopra e non siamo sconfrontando i affitti hanno vinto a soie. Questa si spara con l'ardesa presidente della regione Sardegna, Alessandra Torre va a veddare il suo coordinamento della schimpe regionese, che su una contrasa autonomia differenziata promuovia da il suo ministro Roberto Calderoli. Sopra questa questione, battà più una contierra entre Sardegna e Lombardia. Pesso che il suo presidente Attilio Fontana non ha compreso il suo capo, declarà, ma non mi spantata. Dao chiesa Lombardia, che è rete e custa iscropata da sul ricco, mentre la Sardegna difende il suo diritto e il suo mandor della regione del suo sud danneggiata da questa autonomia differenziata, annao Alessandra Torre. Amenta Fontana, chiesa l'infrastruttura Lombardasa, che gli spermitini di essere desarmendosi in Italia, non la sana finanziata, schintassar differenziata, chiesa dinare del suo nord e bia, ma vincasa chiesa dinare del suo sardoso. Sa Aewind Project, sa sozietà di chi dia che risponde l'impianto seolico orfinzasi in suo territorio, uve dia per naschire sa Einstein Telescope, attasase di sua in Roma, in carriera Savoia 78. Resultati iscritta salvo impresa della Camera di Commercio Romana, dai unici mesi, che in uno capitale sociale, dede che mizza euro. In Frevario ha presentato richiesta di valutazione ambientale per due sfarcos eolicos in suo territorio di Zabarbaggia, che imbattor di chi è aerogeneratore se ha altro di 40 metri in suo territorio di Orgoso, Lorune, Lugula e Nugoro. Sa sozietà di responsabilità delimitata romana, tinkassau a morru torto, su chi ha una nausa ministra Bernini e sa presidente Ettore Eril Manzano, in Terranova, in sinteri di un addobbio che confirma il s'impinno del suo governo per su mega progetti europei in sosenattos. A Seros, amministradore del legato di Aewind, progetti a Tiski, che su Cusizio regionale ha approvato a moratoria, dede che otto mesi per l'installazione del palazzo eolico e impianto fotovoltaico in suo territorio usato. Anna ressaverso su Fissio di programmazione del suo comune di Nugoro, a primordemai, a Iana Zaidau, a Sosietà di Romana, una prima risposta negativa, conforme a su chi previditi salezze e barantuno del suo 21 di aprile del suo domizio e ventitrese. Da tecnica di riabilitazione psichiatrica e scienze infermieristiche e ostretiche, da scienze di professione sanitaria e ingegneria navale e biomedica. Sofferta a vormativa des Universitade de Casteldu, che registra numerosi increschi da prosanno accademico duomizze e binti battor, duomizze e binti chimbe promovete nove cursori del studio novoso. So obiettivo è di rispondere a susbisonza del suo territorio e del suo mondo, del suo traballo, che è sempre in mudamento. Novidade desanno accademico in beniente eserasmus italiano, che ha dato a dare la possibilità a susi studenti di separare un'ateneo calesisiat in Italia che può frequentare corsi specifici o mancare uno corso che non propone su Universitade de Uwe Veneti. Una maniera, però non che va che fuggire susi studenti. Susi iscrizioni sono a cominciare dai luni sotto dei tribulas. A CABBA sotto dei tribulas, che in su camper bianco e rosa posteggiava indennanti il desadommo della salute di Nugoro, sa campagna promuovia adesso il centro screening oncologico della ASL 3 di Nugoro, che proprio dei due ormese ha permittato delle vacche su controllo a susinu in totus o schimbanta a due scomunes che vacche in parte della ASL numero 13. Sa in Nugoro è la prima ASL in Sardegna a sperimentare su sistema di prevenzione che sfruttando esa medicina di prossimità interessa a Sarfeminar da esos schimbanta a su 69 anni del territorio, per indelli deva che era una mammografia quando su mezzo arriva a su comune di residenza. Sarfeminar sana risposto in medasa. Gasi chisa ASL 3 di Nugoro, a t'inanimo delle vacche sanno chi viene pure con questo servizio, che si spera che può d'attessere, ad esempio, prosesatere ad azienda sanitaria a Sarbasa. Su comando provinciale de esos pompieri di Nugoro, e su scomuner de Sant'Odoro e Budoni, costumanzano in prefettura, hanno avvermoso protocollo d'intesa che prevede di aprire dos presidior de esos cursos acquatticos in sambito de esos progettos piagge sicure. Affirmare su prefetto di Nugoro Giancarlo Dionisi, su comandante de esos pompieri Gianpaolo Lampi, su sindicor de Sant'Odoro e de Budoni, Rita Derette e Antonio Addis. Su protocollo prevede di simpreo des ormezzor de esos pompierisi, un ubatello pneumatico e motorizzato e una moto di Abba, che in bionidade squalificada, sprosi su cursi in ambiente acquattico, procada a base operativa. Sasi squadra sanno essere impinnata a scada a diede su 31 di Tribula, su 31 di Agosto, 19 di Manzano, a 67 di Zero. Sa presenza in sas costa, de esos pompierisi, in sas comuner de Budoni e Sant'Odoro, sa fianca a custano pure, sa campagna desaguardia, costiera, mare sicuro, che de plur de 30 anni, orvie tesosomines e sarfeminar desa capitaneria de Porto, a costazzo de Bagnanter, di Portistasa e Subacqueos, totus istiu.